Bene amici, Dyson Pure Cool, praticamente un purificatore dell'aria, automatico, ha un display LCD, ha un filtro, anzi due filtri HEPA più uno a carboni attivi, va a filtrare fino al 99,95% delle particelle fino a 0.1 micron, quindi praticamente tutto e questa è la confezione, unboxing. Telecomando con indicazione che sono disponibili le applicazioni sia per iOS che per Android, alimentatore bello ma bello grossettino anche e dopo aver aperto mille sacchettini ecco i due semi filtri e poi avvolto in maniera veramente quasi maniacale eccolo qua il corpo del purificatore che può avere due altezze diverse, io ho scelto quella alta perché lo metterò appoggiato a pavimento. Dimenticavo che nella scatola c'è anche il manuale, è spesso due centimetri, ma no è semplice, è solo perché è scritto in 42 lingue diverse, 42 lingue meno l'italiano. Ok montarlo è stato semplicissimo, lo collego alla corrente, lo lascerò lì qualche giorno e poi annuserò l'aria e ve lo racconterò. Ed eccoci qua, l'ho installato, l'ho fatto andare per una settimana e vabbè ragazzi che dirvi funziona veramente benissimo. C'è il telecomando per comandarlo, tra l'altro piccola chicca, guardate il telecomando sapete spesso lo si porta in giro, lo si butta sul divano, si perde, qua nessun problema perché magneticamente si può attaccare sopra, molto comodo e tra l'altro la stessa curvatura della curvatura qua sopra, quindi si attacca veramente molto bene. Accensione e spegnimento, velocità della ventola ma il funzionamento principe è in automatico, guardate qua, novità di quest'anno il display, sul display possiamo vedere la qualità dell'aria, possiamo vedere la qualità dell'aria nelle ultime 24 ore, possiamo vedere la quantità di PM 2.5 che sono praticamente le particelle di diametro minore di 2.5 micrometri o micrometri e poi le PM 10 stessa cosa però diametro 10 micrometri. I composti organici volatili, ci viene indicato quanti sono nell'atmosfera e anche il biossido d'azoto che si forma per l'ossidazione del monossido inquinante che diciamo deriva dai processi di combustione e se è in elevate quantità può dare irritazione alla gola fino se è tantissimo a malattie estreme, vabbè però speriamo che non sia mai così. Poi temperatura dell'aria e umidità dell'aria e interessante l'indicazione anche dello stato di sporcizia dei filtri quindi lui ci può dire quando sono da sostituire, in teoria dovrebbero durare un anno. E poi guardate questo simbolo wifi, sì perché lui si collega via wifi alla rete, spara i dati in cloud e dall'applicazione possiamo andare a controllare tutti i dati. Ma l'applicazione ve la faccio vedere meglio dopo, adesso vediamo il funzionamento. Ovviamente si può decidere sia la ventilazione, la velocità di ventilazione ma io vi consiglio di lasciarlo sempre in automatico perché è veramente intelligente e aumenta la ventilazione in base agli inquinanti che abbiamo nell'aria ma soprattutto possiamo anche volendo utilizzarlo come ventilatore con una rotazione sul proprio asse di 45 gradi oppure di, lo riporto indietro, di 90 gradi, 180 oppure 350 gradi. Ovvero lui gira praticamente su se stesso, non continuando a girare ma prima da una parte come vedete e poi dall'altra. Adesso ho annullato la rotazione, possibilità di funzionamento notturno, va a diminuire la silenziosità cliccando questo pulsante, non vuole stare in centro ovviamente io lo sto forzando e giustamente dovrei riportarlo in centro facendogli fare una rotazione, vediamo se ci riesco. Ce l'ho fatta, sono riuscito a farlo tornare in posizione ma questo è anche un ventilatore quindi se aumentiamo la velocità di ventilazione massimo fino a 10 può arrivare. Rumorosità massima così 64 decibel, a velocità 1 praticamente non si sente in automatico, sta sempre su velocità che non danno fastidio e qua esce un bel flusso d'aria. Ma intelligentemente chi non volesse utilizzarlo come ventilatore può tranquillamente schiacciare questo pulsantino che va a invertire il flusso dell'aria. Adesso l'ho schiacciato, sentirete un click lock meccanico perché da questo punto di vista l'aria non esce più frontalmente ma esce da un diffusore laterale quindi non c'è più aria diretta ma c'è aria diffusa. Quindi per quanto riguarda la purificazione dell'aria vi consiglio questo settaggio ma adesso torno con l'aria davanti perché accendo una sigaretta. Premessa odio il fumo per questo ho un accendino inguardabile quelli di casa, ho comprato delle sigarette tra l'altro ma quanto costano le sigarette ragazzi? Poi non fanno più pacchetti da 10 vabbè l'accendo, dovrei aspirare ma mi rifiuto, mi metto qua vicino. Sta uscendo il fumo che ovviamente sta entrando nel filtro perché ovviamente aspira da qua il Dyson. Lontani sentori di fumo ma veramente lontani, forse sono quelli che mi salgono un pochino da qua ma devo dire che assolutamente 100 volte meno che avere il fumo che mi arrivi in faccia. Tra l'altro adesso lo faccio andare, lo metto in automatico così mi toglierà anche un pochino la puzza che mi è arrivata qua sul naso. Consumo massimo 40 watt, minimo 6 watt e una piccola genialata questo display ha il sensore di luminosità così di notte non fa fare quindi lo potete tenere anche in camera da letto. Ma adesso direi che andiamo a vedere come funziona l'applicazione e traiamo le conclusioni. Ed eccoci all'applicazione, ci dà i dati meteo esterni ovviamente presi da servizi meteo non ha una centralina da mettere fuori per monitorare la qualità dell'aria. Mentre all'interno c'è proprio il suo sensore, la sua sensoristica interna che grazie anche ad algoritmi ci dà la qualità dell'aria ora per ora, ci dà la quantità di PM 2.5, la quantità di PM 10, la quantità di composti organici volatili tra cui il benzene, ce ne sono veramente tanti che come vedete si sono alzati quando ha acceso la sigaretta e anche la quantità di NO2 e l'andamento oltre a temperatura e umidità. Praticamente sono gli stessi parametri che vediamo nel displayettino ma qua c'è lo storico giornaliero e c'è anche lo storico settimanale. La cosa che mi è piaciuta ma anche un po' mi è dispiaciuta, guardate come tutte le mattine, stamattina sono arrivato in ufficio, ho aperto le finestre, guardate aprendo le finestre la qualità dell'aria come è peggiorata. Più si va su più la qualità dell'aria peggiora. E qua vedete una linea con una scritta auto target, praticamente quando mettiamo la funzionalità automatica l'obiettivo del purificatore è tenere la qualità dell'aria sotto a questo obiettivo. E qua sotto possiamo vedere anche la velocità del ventilatore, cioè quanto il ventilatore è andato veloce per andare a purificare l'aria. E ovviamente quando poi si è acceso il ventilatore tutti gli inquinanti si sono abbassati tranne il COV che adesso si è alzato ma adesso sta andando il ventilatore appena acceso la sigaretta. Vedrete che man mano si abbasserà, ma gli inquinanti principali, quelli che sono entrati aprendo la finestra vedete come si sono abbassati. Queste sono le statistiche, sono in cloud quindi se cambiamo smartphone, ci riloghiamo con le nostre credenziali, le ritroviamo tranquillamente. Ma da remoto anche sotto rete 4G o un'altra wifi possiamo andare a comandare il nostro purificatore d'aria barra ventilatore con la velocità, l'oscillazione, il flusso dell'aria. Insomma tutte le funzionalità che abbiamo da telecomando le possiamo utilizzare anche da smartphone, magari siamo sul divano, il telecomando l'abbiamo appiccicato sopra al ventilatore e possiamo tranquillamente comandarlo. Possiamo programmare il funzionamento della purificazione, della ventilazione con programmi settimanali e poi qua nelle impostazioni faccio vedere come è possibile andare a decidere di farci arrivare le notifiche. Quando i filtri, i due filtri sia quello carbonattivi sia quello HEPA sono da sostituire, vedete adesso io li sto facendo andare da una settimana e sono ancora al 100% e poi possiamo andare a aggiornare il software e a gestire le notifiche che ci possono arrivare quando c'è da sostituire il filtro o quando c'è un difetto del purificatore. E poi c'è anche la possibilità solo però con, vedete, Amazon Alexa di controllarlo vocalmente, speriamo che arrivi anche il supporto a Google. Ci ho detto quanto costa, è come tutti i prodotti di Dyson non costa poco, 599 euro di listino, la versione alta quella che ho io, c'è anche la versione più bassa con il diffusore tondo a 549 euro, ma devo dire che funziona veramente molto molto bene e soprattutto ci si rende conto degli inquinanti che si hanno a casa. Per esempio, miei genitori, mio padre che mi ha fatto odiare al fumo, il fumo lo ringrazio perché mi ha sempre fumato sigari in casa, io ho sempre odiato l'odore di Toscano, beh, da quando hanno questo Dyson in casa perché l'ho fatto prendere anche a loro, quando vado a trovarli esco che i vestiti non puzzano più di fumo. E non è poco, e qua Milano, e qua Milano mi toglie un po' di inquinanti, maledetto inquinamento. Dovremmo mettere dei super Dyson fuori. Ciao! Ciao!